Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Marco Shot e come potete sentire la voce se ne sta andando. E' un po' il tempo, piove, poi c'è il sole, poi di nuovo freddo e comunque mi ha fregato e la voce se ne sta andando. Comunque abbiamo spostato i vlog adesso alla domenica alle 19, come potrete vedere quando uscirà questo video, perché così abbiamo più tempo per fare il gameplay che stiamo seguendo, ovvero Saw. E andiamo un po' a ricapitolare, abbiamo iniziato questa settimana con il primo episodio lunedì, i giochi hanno inizio, mi avete tutti parlato bene di questa serie, quindi l'ho voluta continuare con tanto entusiasmo. Infatti siamo arrivati alla puntata, all'episodio di ieri, il numero 6, dove ci siamo fermati lì per questa settimana, tutta colpa mia, infatti oggi di domenica non vi porterò il gameplay, riprenderà direttamente lunedì, vabbè, anche se saltiamo un giorno alla settimana non succede niente, così anche io mi risistemo un attimino e riesco a registrare altri episodi per tutta la settimana. Mi avete chiesto anche di riportarvi Emergency, di continuare la campagna, siamo arrivati alla missione 3 che vi ho messo il 17 marzo, adesso sono lì, sto provando a registrarvi la campagna numero 4 e vi annuncio già che è abbastanza incasinata, è abbastanza difficile, perché sì, perché è una vera catastrofe. L'ho già provata due volte e due volte è andata male, quindi ho cancellato la registrazione. Comunque, per la settimana che viene le cose rimarranno super giù così, perché noi continueremo il gameplay, non so di preciso a che punto siamo, se siamo a metà della storia o se la stiamo per finire, questo non lo so, perché non mi sono informato per niente, proprio per scoprire la storia al 100% con voi. Quindi potrebbe finire questa settimana, ma potrebbe anche non finire questa settimana, dipende ancora da quanto c'è da giocare su Saw. Per Emergency sto cercando comunque, come vi stavo appena dicendo, di registrare qualche altro episodio della campagna così da portarvelo durante la settimana, senza togliere il gameplay. Poi non so, mi avete chiesto anche di riportare un episodio così a scazzo di Eurotrack Simulator 2, vediamo un po', perché comunque, come vi avevo già detto, quel gioco bisogna giocarlo, bisogna fare una specie di commentary che non c'entra niente col gioco, quindi se avrò qualcosa da dire, magari durante la settimana, invece di portarvi un vlog durante la settimana, vi porterò un gameplay di quel tipo e magari parleremo lì. Per il resto non vi ho portato più MotoGP, per il semplice motivo che sto registrando, soprattutto dal PC. La console l'ho messa un attimino da parte, non perché la voglio mollare, ma perché avevo intenzione di fare dei cambi, che poi, quando sarà il momento, ne parleremo assieme. Ma comunque non vi ho portato più MotoGP per questo motivo, non perché non mi interessasse come episodi, anche perché era una cosa fatta per me. Poi mi avete detto anche che vi piaceva, quindi era un motivo in più per portarla. Ma oggi è domenica, quindi questo video uscirà alle 19, alle 20, ci sarà la prima gara del MotoGP, quello per il reale, non del gioco. Ed è una cosa che io seguirò molto, quindi durante il corso di questi vlog settimanali, magari parleremo anche di quello che è successo nella MotoGP, perché è un argomento che a me piace, poi se vi piace, anche a voi, fatemelo sapere. Altre cose da dire, mi avete chiesto di portare dei giochi così, anche di quelli simile free, che si trovano in giro su internet, quei giochini un po' scemi da portarvi per farci due risate. Adesso vediamo un po', perché mi sono veramente concentrato per fare questo gameplay. Come vi avevo già detto, il mio computer è abbastanza una carretta, quindi per fare il rendering ogni volta di Saw, per esempio, del gameplay, mi ci vogliono quelle tre ore e mezza, solo per salvare il file. Quindi se dovessi portare molti più episodi, non riuscirei proprio materialmente, con le ore della giornata, a riuscire a salvare tutti i video. Però vediamo un po' di riuscire ad accontentarvi anche su questo. Comunque, per concludere, parlando del gameplay, mi avete detto che vi piace come ve lo sto portando, che mi vedete abbastanza dentro. Beh, sì, sono abbastanza preso da questo gioco, da questo gameplay. Cerco sempre di immedesimarmi, anche, per esempio, anche su Emergency, molte volte ho questi scatti così, perché mi immedesimo proprio dentro il gioco. E quindi tutto ciò mi fa piacere, che voi l'abbiate notato. Per il resto, spero che abbiate passato un buon weekend. Noi ci rivediamo domani, lunedì, con il settimo episodio di Saw. Bella a tutti, ciao!